L'ingresso nella diocesi di Como del nuovo Vescovo Monsignor Oscar Cantoni è in programma il prossimo 27 novembre, prima domenica di avvento. La comunicazione ufficiale è arrivata in queste ore. Al momento è possibile confermare, spiegano dalla Curia, che Monsignor Cantoni raggiungerà a piedi la cattedrale partendo alle 14 da Portatorre. La messa per l'inizio del Ministero Pastorale del Vescovo sarà celebrata in Duomo alle 15. Il Vescovo Coletti invece presiderà la messa di chiusura dell'Anno Santo della Misericordia e di saluto ai fideli per la fine del Ministero Pastorale, domenica 13 novembre alle 15.30, sempre in cattedrale. Monsignor Cantoni si congederà dalla diocesi di Crema nella stessa giornata. Nato a Lenno il 1 settembre 1950, trasferitosi con la famiglia all'età di otto anni e tre mezzo, il nuovo Vescovo è entrato nel seminario di Como nel 1970, dopo gli studi classici al Collegio Gallio. È stato ordinato presbitero nella cattedrale di Como il 28 giugno 1975 dal Vescovo Teresio Ferraroni con altri 12 giovani. Eletto nella sede Vescovile di Crema il 25 gennaio 2005, ha ricevuto l'ordinazione episcopale nella cattedrale di Como per le mani del Vescovo Alessandro Maggiolini il 5 marzo e ha preso possesso della diocesi di Crema il 19 marzo di quell'anno. È stato nominato Vescovo di Como, lo ricordiamo, lo scorso 4 ottobre.